Lo spettro di un nuovo dissesto si aggira tra le stere mura del palazzo municipale di Vibo Valencia. O meglio, da quell'edificio tipico esempio di architettura nazionalista, il fantasma di un disavanzo milionario non se n'è mai andato. Correva l'anno 2013 quando il Comune entrò ufficialmente in uno stato di default che da lì a poco segnò il destino politico della Giunta d'Agostino, arenatasi di fronte all'impossibilità di varare un piano di rientro che spalancò la strada all'organismo straordinario di liquidazione. Ne seguirono tributi alle stelle, lacrime e sangue che i contribuenti stanno ancora versando. Altra corsa, altra giunta, ma i problemi sono sempre gli stessi. Scarso o nullo recupero dei crediti, inconsistente lotta all'evasione tributaria, difficoltà insormontabili nella ricostituzione dei fondi vincolati. Il tutto per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, non proprio bruscolini per un ente che non naviga in acque tranquille e per un esecutivo, quello guidato dal sindaco Elio Costa, perennemente alle prese con un equilibrio precario. Gli sforzi si concentrano ora sull'esatta definizione del disavanzo e sulle potenziali misure per venirne a capo. Una strategia che contemplerebbe il ricorso ad esperti esterni, i quali però sembrano non volessi infilare in quello che appare a tutti gli effetti come un tunnel senza uscita. Tunnel dal quale, non a caso, si è chiamata fuori persino l'assessore a ramo, Laura Pugliese, dicendosi all'oscuro della gravità della situazione. Insomma, un fuggifuggi generale che non lascia presagire nulla di buono, a parte nuove lacrime e sangue. Stefano Mandarano per la Cineus 24. Stefano Mandarano per la Cineus 24.